L'ultimo DPCM del governo Conte che inserisce la Puglia tra le regioni arancioni per le limitazioni al contagio del covid cambia anche il mondo dell'università. Secondo decreto, infatti vengono annullate tutte le lezioni in presenza, fatta eccezione per quelle delle matricole e per i lavori da svolgere in laboratorio. Per queste ultime attività il via libera è per tutti, mentre per le lezioni potranno seguire nelle aule, seguendo il distanziamento sociale e tramite l'ormai consueta modalità di prenotazione dei posti, le matricole, quindi di studenti dei primi anni sia delle lauree triennali che di quelle magistrali. Ancora da registrare ulteriori e nuove limitazioni per un settore che in questi ultimi mesi ha dovuto pagare un dazio alto, spesso altissimo, norme che saranno valide ovviamente anche per l'Unisalento che parallelamente lancia proprio in questi giorni un workshop per una città sempre più a mobilità sostenibile. Bicilab Unisalento monta in sella al cambiamento sempre che poi sia possibile andare in facoltà.